ragazzi bentornati su dragon age io anche la nostra benci allora siccome volevo fare un tentativo da flemmet proviamo a fare un party supertanto allora prima però volevo andare a dennerino l'imboscata classico mercato però adesso non c'è da niente, anzi facciamo ripassare i livelli la stena aveva sempre la storia della specializzazione però prima gli serve la forza scedo invece di verla il stress da meno, manca un po' meno colpi non è solo ma non è solo Un po' di sbarramento di roccio. Wale. proviamo così ancora mi sembra da fare bene ma non ne ricordo più adesso guardiamo un altro ah forse devo portare la roba al balista guardiamo la roba al bambino Sì, non lo so, non lo so. perché non mi ricordo più c'è il basso che fuori all'inizio forse c'era anche qualcosa di irregolari torna al collettivo gli irregolari di Blackson sono qui dentro no di qua c'è il 10 perfetto altre cose non c'è nessuno non 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 ok con il seno però forse nell'altra parte della città la collettiva magica ti ringrazia, facciamo un riuscire a te ok facciamo un tentativo con Flem la magica esiste per servire l'uomo e mai no andiamocelo ah forse era con la porta l'ha nascosta no no e no 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 Un po' la porta si apre Tugurio Pittoresco I'm not going to be a footnote. I'm not going to be a footnote. I'm not going to be a footnote. Un scontro. Non l'ho salvato. Speriamo bene. Sembra piuttosto forte. C'è una energia? Morire stai a non morire? Cazzo. Mi frega. Fortissimo. Porca puttana. L'ho ucciso anche Stan. Cazzo che fregatura. Cazzo. 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 allora a sto punto ma la gioca diversamente ancora a sto mercante, a parte che è diverso vero? dobbiamo riguardare un attimo non è vero, non è vero, non è vero, non è vero una cosa così se non è vero, non è vero via via Allora, subito Dal mago, dal regolare All men are the work of our mess The client is very So, what does your uncle say? Is he doing what you said? Shh, not so loud The irregulars Dwarven crafts, find dwarven crafts Yes So, salvo Coming Gray warden is I suppose I am used to inspiring A different kind of Witness Resist Allora, allora, allora Che video cosa fa Proviamo con la parabola Sì, funziona I should be I should have I should have I should have se riesco a congelarlo senza fare danni tutte le volte però si rigenera ci frega l'energia no ma ucciso non lo vedo non lo vedo devo curare Alistair l'estordimento resiste ma cosa sarà debole? non riesco a capire non lo vedo non lo vedo non lo vedo non lo vedo però non riesco bene a capire come non lo vedo 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 ma tu sei già brillo che il signale a Dishal non lo vedo lui il signale sta subendo Ma che so farlo? ma reganna aveva dei forze degli incantesmi facciamo così togliamo questi poi li mettiamo all'occorrenza ma reganna aveva dei forze degli incantesmi grazie 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 grazie